numero 5 questo mini deumidificatore portatile ha un basso consumo e un'alta efficienza ottima scelta se desideri un ambiente sano e privo di umidità ha uno spegnimento automatico quando il serbatoio dell'acqua è pieno ideale per cucine bagni camere da letto camper armadi garage o cantine ottimo prodotto per qualità prezzo se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 4 questo mini deumidificatore regola automaticamente il livello di umidità e allo stesso tempo purifica muffe e acari nell'aria in modo da poter respirare aria sana e fresca tutto il giorno il deumidificatore è realizzato in materiale abs sicuro e innocuo ha un consumo energetico molto basso per evitare che l'acqua trabocchi il deumidificatore si spegne automaticamente ideale per ufficio cucina bagno è molto silenzioso e ha incorporata una luce a led da sette colori numero 3 questo mini deumidificatore previene la muffa e garantisce un ambiente confortevole assorbendo l'umidità presente in bagno in cucina in cantina negli armadi molto silenzioso il mini deumidificatore si spegnerà automaticamente quando il serbatoio dell'acqua è pieno per evitare che il serbatoio dell'acqua trabocchi il deumidificatore è compatto e piccolo e non occupa molto spazio possedere questo deumidificatore significa migliorare la qualità dell'aria trovi il link di questo articolo in descrizione numero 2 il piccolo deumidificatore d'aria rimuove l'umidità mediante aspirazione e previene la muffa è ideale per cucina bagno armadio ufficio cantina garage il deumidificatore è silenzioso e ha un basso consumo energetico crea un ambiente pulito e sano nella tua casa quando il serbatoio dell'acqua raggiunge la sua capacità massima si spegnerà automaticamente questo deumidificatore professionale a sette colori led non solo è un dispositivo di deumidificazione sicuro ma può anche essere utilizzato come luce notturna numero 1 il mini deumidificatore offre un ambiente di vita confortevole e privo di muffa il deumidificatore dispone di un compressore d'aria di alta qualità e di una ventola di scarico incorporati la macchina assorbe l'umidità presente nell'aria e la condensa in goccioline d'acqua e la immagazzina nel serbatoio dell'acqua ha un funzionamento efficiente rimuove l'umidità dall'aria e scarica l'aria secca il deumidificatore è silenzioso quando il serbatoio dell'acqua è pieno smetterà automaticamente di funzionare in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto iscriviti al canale